Beppino Colle, direttore generale dell'azienda sanitaria numero 3 dell'Alto Friuli, si completa il percorso di riqualificazione delle strutture per i centri di salute mentale con Tolmezzo, un nuovo bel colpo per la vostra azienda? Certamente, questo viene a completare tutta l'offerta che parte dall'offerta residenziale di alcuni appartamenti in città all'offerta ambulatoriale, alla riabilitativa, abbiamo una casa ad artaterme per la riabilitazione psichiatrica e con questa struttura completiamo il ciclo dell'offerta potendosi dare un'assistenza nelle 24 ore. Come proseguirà poi il lavoro della vostra azienda sanitaria anche se gli scenari futuri non sono molto rosei? In realtà la programmazione regionale prevedeva alcune iniziative come questa, come l'attivazione dei post-acuti a Gemona, come la riconversione parziale delle attività chirurgiche su Gemona che dovremmo portare a termine alla fine di quest'anno e possiamo dire che abbiamo completato quasi tutto quanto previsto dalla programmazione regionale per questo triennio. Ciò che adesso, su cui punteremo in questi mesi invece è un percorso di qualità, cioè cercheremo di essere accreditati nell'ambito delle cure ospedaliere da un ente accreditatore esterno che è la Joint Commission International e per questo stiamo lavorando per creare qualità e sicurezza nelle nostre strutture ospedaliere.